La mostra è intitolata Logos perché significa raccontare, parlare e pensare. Io ho approvato questo titolo anche perché imita molto la natura e cerco di imitare la natura. La sua bellezza e riporta poi anche al significato esoterico. Dunque qui ci sono due o tre quadri di anni indietro però questo è tutto lo studio nuovo che ho fatto qui nell'ultimo anno. Perché il colore per me è importante e poi appunto io cerco di vedere quello che non si vede. Le marpe colorate, mi ci rispecchio anche se poi diciamo Logos è una parola molto importante perché vuol dire tante cose. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.